Ma io vedo che non arriva la mia parola, capisce? Ma deve arrivare, dici a me se non arriva, forse qualche volta non ti capiscono. Ma lì devi... Io parlo per esempio con Marco perché lui mi può aiutare anche con la lingua. Ma chi non ti ascolta? No, però per esempio io vedo che non parlo, parlo, parlo e per esempio io con lui mi incazzo perché io lo so la qualità di lui. Si deve cambiare anche un po' la tattica. Non si può sempre gridare, ma non si può sempre dire vieni, torni in tua posizione. Ma un po' cambiare, provare tutto, sai? In diversi momenti. Sono tutte cose che devi prendere ancora di più responsabilità. Io lo so che devo cambiare quella. Per questo è sempre una volta che mi alla fine mi mi piace. Ma non... Si, io voglio cambiare perché io non ti sono bello. Ma non... Ma non... In questa posizione, in questa posizione... in questa posizione, in questa posizione, in cui hai te lo meglio? In questa posizione... in questa posizione... in questa posizione... di queste tre... in questa posizione... È anche nuovo per me. Non so se non è vero se tu hai visto come abbiamo spiegato in meisterschaft, ma per me è molto importante questa abzione. Stendente abzione. In questo training facciamo anche questa Nr8-Bewegung. Quando qualcuno arriva, qualcuno arriva a questa posizione, e qui si chiede l'occasione. Quando si chiede l'occasione, si chiede l'occasione. Questo anno abbiamo la possibilità di dare un gioco lungo. O che si chiede l'occasione, e si chiede l'occasione. O che si chiede l'occasione, si chiede l'occasione. è interessante quando ci stiamo in questa zona. E poi siamo un'occasione. E' un'occasione. E' un'occasione importante. Per me è molto importante questo giusto per una squadra. E per noi è un giusto giusto. Questo significa che per me è franzosisch e necce. Per me è molto importante perché non si tratta di più di una parte franzosica che abbiamo in questo momento un'occasione che abbiamo avuto una tendenza. Abbiamo avuto una tendenza perché abbiamo avuto un'occasione che abbiamo avuto un'occasione con Morello, un'occasione per un'occasione che abbiamo avuto un'occasione per un'occasione. E' un'occasione per un'occasione per un'occasione per un'occasione per un'occasione per un'occasione Grazie a tutti.